Definito il palinsesto è il programma della quinta edizione del BeWizard, dell'evento di webmarketing che si terrà a Rimini l'8 e il 9 marzo. Oltre 20 relatori scelti fra i massimi esperti nazionali ed internazionali, tra questi anche nuovi protagonisti, fra cui John Mueller di Google Zurigo, Cindy Krum, guru americana del mobile marketing, e grandi ritorni come quello di una star del web, Avinash Kaushik, il noto digital marketing evangelist, che aprirà la due giorni con un intervento dedicato a Facebook. BeWizard rappresenta un evento formativo di successo, come testimoniano le partecipazioni triplicate nelle sue ultime quattro edizioni, ha affermato Enrico Pozzi, direttore commerciale di Titanca, la web company organizzatrice dell'evento. Le due giornate del BeWizard si sviluppano dove una prima giornata ci sarà una sessione plenaria dove tutti i partecipanti saranno insieme, dove gli ospiti internazionali, quindi gli stranieri, parleranno a 360 gradi sulle tendenze del web, ma soprattutto hanno dei consigli pratici da poter mettere in pratica subito il giorno dopo da parte degli aziende per fare la promozione dei propri siti web. Per avere contenuti più specifici abbiamo pensato di dividere le sessioni nella giornata successiva, quindi la seconda giornata, attraverso una sessione dedicata al mondo del turismo, una sessione dedicata al mondo del business e dell'e-commerce e una sessione dedicata al mondo dell'advance. La novità di questa edizione 2013 si chiama Next, è il concorso che premia la migliore idea sul web nel territorio nazionale, in giuria anche a Vina Shkaushik. La giuria è chiaramente una giuria di grandissimo spessore perché saranno proprio i nostri relatori e quel momento diventerà proprio una che esistri questo progetto, il premiato. Le iscrizioni riservate alle piccole e medie imprese, le web agency e tutti i professionisti web freelance si protrarranno fino al 28 febbraio.